Siamo letati Gesù e Maria state per assistere amici carissimi a una nuova puntata di questo ciclo di catechesi prima dell'inizio del video vorrei rivolgere qualche piccolissima raccomandazione se possibile ovviamente al termine della visione mettete un like al video e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale se ritenete opportuno lasciate anche un commento al video ed eventualmente condividetelo queste piccole operazioni ovvero non costano nulla ma possano essere molto importanti per la diffusione ad altre anime di questo materiale fatelo ovviamente se ritenete utile e giovevole al bene delle anime quanto avete quanto state per ascoltare io vi benedica e la santa vergine che protegga Audentur Jesus Maria bentornati o benvenuti amici a questa nuova puntata del ciclo di catechesi dedicata al mistero di giuda questa era numero 34 continuiamo il nostro percorso di approfondimento della figura dell'apostolo traditore il primo capitolo di oggi si intitola buone domande con arroganza e pignoneria non è molto lungo il testo e anche capitolo seguente non è molto lungo quindi procediamo subito per la lettura come sempre eventualmente intervallata da qualche piccolo primo commento e vediamo fino a che punto si arriva nel ragionevole tempo di una non troppo lunga catechesi la mattina del sabato al gezzemani è stata occupata per la maggior parte del tempo in ristoro dei corpi stanchi e delle vesti polverose e sguarcite dal viaggio si spargono per l'uliveto così bello in questo sereno giorno di aprile la pioggia dei giorni scorsi sembra avere inargentato gli olivi e seminato fiori tanto le fronde splendono al sole e sono numerosi i fioretti ai piedi degli olivi gesù passeggia osservando i abè che gioca allegro con giovanni con i più giovani anche l'iscariota passata la giustizia di ieri è allegro e gioca i più anziani osservano e sorridono cosa dirà tua madre di questo fanciullo chiede bartolomeo io dico che dirà è molto esile dice tommaso o no dirà povero fanciullo risponde pietro ti dirai invece sono contenta che tu lo ami obietta filippo la madre non avrebbe mai dubitato ma io credo che non parlerà se lo prenderà sul cuore dice lo zerote e tu maestro che dici che dirà farà quello che voi dite ma molte cose tutte anzi le penserà e le dirà nel suo cuore e nel baciarlo dirà solo che tu sia benedetto e lo curerà come fosse un uccellino caduto dal nido gesù rievoca un delizioso episodio dell'infanzia di sua madre che lei stessa gli aveva raccontato e termina dicendo mia madre si era votata la virginità per l'amore ma aveva essendo creatura perfetta la maternità nel sangue e nello spirito perché la donna è fatta per essere madre ed è aberrazione quando è sorda a questo sentimento che è amore di seconda potenza si sono accostati anche gli altri piano piano cosa vuoi dire maestro dicendo amore di seconda potenza chiede giuda taddeo fratello mio vi sono molti amori e di diverse potenze vi è l'amore di prima potenza quello che si dà a dio poi l'amore di seconda potenza quello paterno quello materno o paterno perché se il primo è tutto spirituale questa è per due parti spirituale e per una sola carnale vi si mescola sì il sentimento affettivo umano ma vi predomina il superiore perché un padre e una madre sanamente e santamente tali non danno solo cibo e carezze alla carne del figlio ma anche nutrimento e amore alla mente e allo spirito della loro creatura e tanto è vero ciò che dico che chi si vota all'infanzia anche se unicamente per istruirla finisce ad amarla come fosse sua carne io li amavo infatti molto i miei discepoli dice Giovanni di Endor ho compreso che dovevi essere un buon maestro vedendo come ti comporti con gli abè l'uomo di Endor si china e bacia la mano di Gesù senza parlare continua ti prego la tua classificazione degli amori pregalo Zelote via l'amore per la compagna amore di terza potenza perché fatto per metà parlo sempre dei sani e santi amori di spirito e per metà di carne l'uomo per la sposa è un maestro e un padre oltre che sposo e la donna per lo sposo è un angelo e una madre oltre che sposa questi sono i tre amori più elevati e l'amore del prossimo non sbagli o lo hai dimenticato chiede l'iscariota gli altri lo guardano stupiti e feroci per l'osservazione ma Gesù risponde placido no Giuda ma osserva Dio va amato perché è Dio dunque non necessita nessuna spiegazione per persuadere a questo amore egli è colui che è ossia il tutto e l'uomo il nulla che diviene parte del tutto per l'anima infusa dall'eterno senza quella l'uomo sarebbe uno dei tanti animali bruti che vivono sulla terra o nelle acque o nell'aria deve adorarlo per dovere e per meritare di sopravvivere nel tutto ossia per meritare di divenire parte del popolo santo di Dio in cielo cittadino della Gerusalemme che non conoscerà profanazione e distruzioni in eterno l'amore dell'uomo e specie della donna alla prole a indicazione di comando nelle parole di Dio ad Adamo ed Eva dopo averli benedetti vedendo di aver fatto cosa buona in un lontano sesto giorno il primo sesto giorno del creato disse loro crescete e moltiplicatevi e riempite la terra vedo la tua inespressa obiezione e ti rispondo subito così posto che nel creato avanti la colpa tutto era regolato e basato sull'amore questo moltiplicarsi dei figli sarebbe stato amore santo puro potente perfetto e Dio lo ha dato per primo comando all'uomo crescete e moltiplicatevi amate perciò dopo di me i vostri figli l'amore quale è ora attenzione attenzione il generatore attuale dei figli allora non era la malizia non era e con essa non era l'esecrata fame del senso l'uomo amava la donna e la donna l'uomo naturalmente non naturalmente secondo natura quale noi lo intendiamo o meglio come voi uomini lo intendete ma secondo natura di figli di Dio soprannaturalmente dolci primi giorni d'amore fra i due che erano fratelli perché nati da un unico padre e che pure erano sposi e che nell'amarsi si guardavano portavano con gli innocenti occhi di due gemelli nella cuna e l'uomo provava l'amore di padre per la compagna ossa osso delle sue ossa e carne della sua carne così come è il figlio per un padre e la donna conosceva la gioia di essere figlia ossia protetta da un amore ben alto perché sentiva di avere in sé qualcosa di quello splendido uomo che l'amava con innocenza e angelico ardore nei bei prati dell'Eden dopo nell'ordine dei comandi dati da Dio con un sorriso e suoi parcoli diretti viene quello che lo stesso Adamo dotato per la grazia di un'intelligenza seconda solo a quella di Dio decreta parlando della compagna e di tutte le donne in lei il decreto del pensiero di Dio che si rifletteva sul terzo specchio dello spirito di Adamo e fioriva in pensiero e parola l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua moglie e i due saranno una carne sola se non ci fossero stati tre piloni dei tre amori sopraddetti avrebbe potuto esserci l'amore di prossimo no non avrebbe potuto esserci l'amore di Dio fa Dio amico e insegna l'amore chi non ama Dio che è buono non può certo amare il prossimo che in maggioranza è difettoso se non ci fossero stati amore coniugare paternità nel mondo non avrebbe potuto esserci prossimo perché il prossimo è fatto dei figli nati dagli uomini sei persuaso sì maestro non avevo riflettuto è infatti difficile risalire dalle sorgenti l'uomo è ormai confitto da secoli e millenni nel fango e quelle sorgenti sono talmente sulle cime la prima poi è una sorgente che viene da un abisso di altezza Dio ma io vi prendo per mano vi conduco alle sorgenti so dove sono e gli altri amori chiedono insieme Simone Zelote e l'uomo di Endor attenzione il primo della seconda serie è quello del prossimo in realtà è il quarto in potenza poi viene l'amore alla scienza indi l'amore al lavoro io me ne ricordavo tutti e questo è un passo che mi avviso proprio una delle vette e basta e basta dice Gesù ma vi sono molti altri amori esclama Giuda Escariota no attenzione attenzione dopo commentiamo perché qui stiamo a farci le 4 del mattino vi sono altre fami dice Gesù ma non sono amori audite audite sono disamori negano Dio negano l'uomo non possono perciò essere amori perché sono negazioni e la negazione è odio consiglio tanto dopo lo rileggo prendere carta e penna scrivere battere al computer inventarsi qualcosa cartellone da mettere in camera di questa bellissima uscita di Gesù la rileggo subito dopo la rileggo un'altra volta ancora vi sono molti altri amori esclama Giuda Escariota no vi sono altre fami ma non sono amori sono disamori negano Dio negano l'uomo non possono perciò essere amori perché sono negazioni e la negazione è odio se io nego di acconsentire amare è odio chiede ancora Giuda Escariota miseri noi ma sei più cavilloso di uno scribbo mi dici che hai è l'aria fina di Giudea che ti pizzica i nervi come un crampo esclama Pietro no mi piace istruirmi e avere molte idee e chiare qui è facile parlare per l'appunto con scrivi non voglio rimanere a corto di argomenti e credi di potere in quel momento che ti occorre tirare fuori la filaccia del colore richiesto dal sacco dove zavorri tutti questi cenci interroga Pietro cenci le parole del maestro tu bestemmi non mi farò lo scandalizzato in bocca a lui non sono cenci ma una volta che vengono marmerate da noi lo divengono prova tu a dare un bisso prezioso in mano a un bambino dopo poco è uno sbrendolo sporco e lacerato quello che succede a noi ora se tu pretendi di pescare al momento buono il brandellino che ti serve fra che è brandellino e fra che è sporco non so che combinerai tu non ci pensare sono affari miei e ripatte Giuda oh sta certo che non ci penso ne ho abbastanza dei miei e poi mi contento che tu non faccia danno al maestro perché in questo caso penserei anche agli affari tuoi quando farò male lo farai ma non sarà mai perché io so fare non sono un ignorante tu io dice Giuda lo sono io lo so ma appunto perché lo so non zavorro nulla per sventolarlo poi al momento buono ma mi raccomando a Dio e Dio mi aiuterà per amore del suo Messia di cui io sono il servo più infimo e più fedele fedeli siamo tutti ribatte arrogante Giuda oh cattivo perché offendi il padre mio è vecchio è buono non devi sei un cattivo uomo mi fai paura dice Iabè severo rompendo il silenzio attento in cui era e due esclama a bassa voce Giacomo di Zebedeo urtando con il gomito Andrea ha parlato piano ma l'iscariota ha sentito vedi maestro se le parole dello stolto bambino di Magdala hanno lasciato un segno dice Giuda acceso di stizza ma non sarebbe più bello continuare la lezione del maestro anziché sembrare tanti capretti imbizziti chiede Pacifico Tommaso ma sì maestro parlaci ancora di tua madre così luminosa la sua infanzia ci fa l'anima vergine per riflesso ed io povero peccatore ne ho tanto bisogno esclama Matteo e Gesù li accontenta narrando altri bisogni dell'infanzia della madre sua che purtroppo qui non sono raccontati per cui bisogna andarsi a riprendere l'opera perché esulano chiaramente dal discorso contingente allora qui evidentemente la figura di Giuda compare appunto come dice il titolo per la arroganza e la pignoneria anche perché la prima volta che interviene vedete che è veramente una cosa allucinante no ma è così allucinante è allucinante però vedremo subito è così allucinante perché la prima volta che interviene sembra che stia correggendo Gesù hai parlato dell'amore di Dio dell'amore paterno materno dell'amore sponsale e beh ma hai dimenticato l'amore del prossimo quindi che razza di maestro saresti no perché questo è insomma insinuato prima di passare a cose più belle secondo noi pensiamo chi ascolta la diretta e chi ascolta la differita chi ascolterà la differita chi riterrà utile insomma queste piccole considerazioni ma siamo tanto sicuri che questo atteggiamento che è insomma abnorme macroscopico ridicolo quasi no siamo sicuri che è così poco diffuso è atteggiamento evidentemente oltremodo arrogante no ma siamo così tanto sicuri che oggi non ci siano in tutte le categorie del popolo di Dio personaggi che si sentono un po' quasi al di sopra del Vangelo o della diciamo così parola di Dio della rivelazione del sacro depositum fidei chiamiamolo come ci pare insomma della sana dottrina cattolica quando qualcuno se ne esce con amenità io le chiamo così volendo usare un un eufemismo perché su certe cose bisognerebbe farsi un sorriso come dire di un misto tra lo stupito e il compatimento se non fosse che ci sarebbe però poi da piangere no non sono novelli giugda quelli che si permettono di come dire di di aggiungere o togliere qualcosa dalla parola di Dio dalla rivelazione dal Vangelo dal sacro depositum fidei tanto queste cose qui non sono esattamente la stessa cosa evidentemente ma se si dice il sacro depositum fidei ecco basta e avanza no l'atteggiamento di Giuda è quello di chi si azzarda a togliere a aggiungere o ad alterare sono tre manifestazioni dello spirito giudaico ma non dello spirito giudaico nel senso dell'appartenente al popolo ai giudei ma a Giuda Iscariota eppure già nell'Antico Testamento il libro del Deuteronomio e poi nel libro dell'Apocalisse poco prima della conclusione guai a chi si azzarderà a togliere o aggiungere qualcosa a queste sacre parole oggi questo lo si fa purtroppo con la scusa io ho visto nei giorni scorsi per ragioni di carità non dico cosa un video me l'ha girato un sacerdote che ho definito allucinato due ore due ore di 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 semi delirio mi sono dovuto sorbire dove venivano sdoganate alcune fenomenologie diciamo così alcuni fenomeni culturali chiamiamoli così oggi molto diffusi con tanto di testimonianza poi riportata al termine della erudita tra virgolette conferenza tutti contenti nel senso che finalmente adesso la chiesa sta prendo sta comprendendo perché c'è un piccolo problema noi oggi sappiamo delle cose che ieri non si sapevano c'era 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 chi era un calimero che faceva così non mi ricordo c'era un po' pazzetto quando ero piccolino perdonatemi che giochicchi un po' perché è meglio giochicchiarci che faceva ahhh e dice ahhh con la scusa quindi del mutare dei costumi sociali che te lo raccomando come sono mutati e dell'acquisizione di presunte nuove conoscenze scientifiche incontrovertibili ossia teorie del tutto opinabili detto proprio in altri termini insomma di questo genere qui si potrebbe adesso cambiare di fatto il catechismo perché il catechismo è stato scritto quando ancora non eravamo arrivati anche il nuovo catechismo il catechismo di Sappio Decimo proprio ho sentito dire che recentemente è stato detto da qualche personaggio delle altre sfere il catechismo di Sappio per carità per carità per carità va bene insomma è stato un catechismo o no l'ha scritto un papa che è stato canonizzato o no cioè uno può anche dire va bene usiamo quello nuovo ma con calma no con calma non è che quello è il diavolo il catechismo di Sappio Decimo e che prezzerà mai che è che è una bestemmia che è un'offesa al Signore ma che scherziamo e domani sera faccio la catechismo faccio la catechismo sul catechismo romano che faccio da confessare ma scherziamo ma scherziamo il catechismo è sempre lo stesso sempre lo stesso cambiano le forme e i modi con cui viene espresso cambiano le accettuazioni che dipendono dal contesto storico ma dico scherziamo scherziamo questo è il spirito di Giuda questo qui questo è il spirito di Giuda è evidente allora capiamo perché il nostro Signore vuole che queste cose si conoscano perché le ha rivelate in forma di rivelazione private non dimentichiamo che questo testo è nato e questo ciclo di catechesi è nato perché per chi crede evidentemente a quanto fatto da Gesù con Maria Valtorta uno dei motivi per cui ha dato l'opera uno uno il principale era fornire strumenti di combattimento contro il modernismo perché non c'è niente a quello che ha detto Gesù che lui odia tanto quanto il modernismo uno il primo motivo dopo mostrare il profilo umano psicologico spirituale di quest'uomo morale di quest'uomo non semplicemente per soddisfare la nostra curiosità vabbè ma com'era fatto Giuda com'era Giuda adesso lo vedi com'era Giuda ma non è che è tanto interessante insomma sapere esattamente com'era Giuda la cosa interessante è riflettere su chi era e com'era questo e capire come il suo modus operandi si perpetra e chiaramente queste cose il nostro signore le dà a chi le dà cioè non è che l'opera l'ha data che ne so per gli scintoisti per carità sono scintoista se lo legge e se lo impara a memoria e si converte viva Dio magari ma è evidente che era data per chi per noi cattolici preti vescovi cardinali eccetera tutti l'opera l'alesse Pio XII cioè l'alesse gli diede quantomeno una buona occhiata prima delle vicissitudini che incontrò guarda caso alla morte di Pio XII proprio alla morte di Pio XII non è che se ne fece garante se ne fece difensore la difese anche se in forma privata informale deve essere pubblicata così come sta scritta e tante vicissitudini che incontrò e che le ha incontrate anche da parte di adesso non vorrei di eminenti autorità diciamo così che sono mitizzate da più di qualche ambiente che hanno suonato non indifferentemente tarando non poco purtroppo l'opera evidentemente con dichiarazioni che non hanno nessuna forza e valore vincolante che però pesano per l'autorevolezza evidentemente a qualcuno lo scoraggiano nella lettura dell'opera quindi chiuso tutte queste parentesi è fondamentale confrontarsi con queste cose ora nell'ambito della spiegazione degli amori proprio a rispondere all'obiezione di Giuda Gesù accenna ma in altre parti dell'opera ne parla assai più chiaramente alla condizione dell'uomo pre peccato originale e qui mi devo per forza permettere perché non sono gli scritti di Maria Valtorta ma si parla alla fine anche degli scritti di Maria Valtorta io su questo ci ho fatto un ciclo di catechesi perché le cose che abbiamo sentito dire da Gesù questa sera che adesso le riprendo non sono un'invenzione di Maria Valtorta diceva vabbè questa è una rivelazione privata pure chiacchierata tormentata eccetera eccetera quindi la lasciamo perdere sono fantasie posizione che sarebbe certamente lecita ok sia liberissimi io so bene che sia liberissimi di pensare infatti a chi non interessa queste cose cambiasse canale io ho già detto d'accordo ho già detto tutto quello che dovevo dire in premessa quindi se qualcuno non vuole imbarcarsi in queste cose liberissimo di farlo ok ma il problema è che queste cose non le ha dette Maria Valtorta né Gesù di Maria Valtorta queste cose hanno caratterizzato il pensiero dei padri della chiesa in maniera diffusa e molto articolata il ciclo di catechesi in cui parlo di queste cose sono 33 catechesi si chiama il peccato originale l'origine di ogni male si basa su uno studio lo cito in continuazione glielo ho detto io non ho conosciuto personalmente l'autore ma l'ho conosciuto per mail credo una volta ci siamo anche sentiti per telefono che è Rodolfo Barontini che scrisse un libro la dimensione sessuale del peccato originale mi pare che si chiamasse così comunque l'autore è Rodolfo Barontini si trova su Amazon e il libro si può tranquillamente comprare e che cosa ha fatto quest'uomo perché io avevo già sentito qualcosa su questo argomento frasi qua e là però sporadiche di qualche padre della chiesa tipo che la connessione dell'uomo prima del peccato originale era quella della verginità questo si è andato a ritrovare tutti i passi dei padri della chiesa alcuni dei quali non tradotti in italiano quindi andando a riprendere dal migne in greco e dalla patologia latina e greca che parlano di questo argomento tirando fuori un mimo come un denominatore cioè a prescindere dalle ipotesi poi formulate circa in che cosa sia consistito il peccato originale perché il tipo della genesi non spiega che cosa è stato ma spiega di che cosa si è trattato quindi quali sono le caratteristiche gli elementi costitutivi la superbia la disobbedienza la trasgressione il desiderare qualche cosa che era proibito il compiere un gesto mangiare il frutto che ha in qualche modo a che fare con i sensi ma insomma la storiella della mela rossa tabora mela pendente dall'albero con avvolto il serpente dobbiamo capire che ha evidentemente una significazione simbolica quella è la classica cosa che è un fatto storico attenzione non è una favola il peccato originale è un fatto storico narrato però attraverso una rappresentazione che contiene degli elementi simbolici ok quindi il frutto proibito conoscerete il bene e il male diventerete come Dio deve essere approfondito e i padri l'hanno fatto e sono giunti ad una determinazione che è quella che qui Gesù afferma esplicitamente prima del peccato originale non esisteva la concupiscenza quindi non esisteva il fatto che la generazione dell'uomo avveniva così come avviene adesso perché adesso viene nella concupiscenza punto crescete e moltiplicatevi non era da compiersi così come lo compiamo adesso e non per niente il salmo 50 dice nel peccato mi ha concepito mia madre ok Sant'Agostino commentando questo non ricordo bene questo passaggio dice vabbè questo lo sappiamo no cioè facciamo un pochino di 1 più 1 uguale 2 2 più 2 uguale 4 cioè nessuno può contestare questo a meno che non voglia essere eretico ok la fornicazione quindi la congiunzione carnale al di fuori del matrimonio e da essa nascono i figli non vi è chi non sappia e se qualcuno non lo sa lo nega è fuori della chiesa cattolica chiunque sia fosse pure prete o vescovo la fornicazione è peccato mortale questo dico mortale a caratteri cubitali senza nessun dubbio sempre dovunque e comunque chiaro? su questo non ci sono dubbi non è come quando uno sta in ginocchio o non sta in ginocchio davanti alla consagrazione che c'è chi dice no non è peccato mortale forse non lo sarà sicuramente è un'irriverenza ma che la fornicazione è peccato mortale non c'è nessun dubbio nessuno non è un mio parere personale non è una mia idea forse accentuata come quella per l'eucaristia da un amore mio particolare sarà forse malato forse eccessivo per Gesù e Eucaristia no 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 quindi che cosa significa? significa che l'atto da cui può nascere una vita è intrinsecamente peccaminoso dice e allora il matrimonio ecco qua perché tutti sanno anche insieme a quello che ho detto che evidentemente nel matrimonio non è peccato quello stesso atto quello che fuori del matrimonio è fornicazione nel matrimonio si chiama atto coniugale che quando è aperto alla vita addirittura ha sotto l'aspetto diciamo così dell'apertura alla vita può avere carattere di meritorietà in che senso? nel senso che se due sposi si uniscono con il fine primario di cooperare alla trasmissione della vita in apertura generosa addirittura quell'atto diventa pure sotto certi aspetti meritori e allora Sant'Agostino che era una persona intelligente dice dunque il signore ha istituito il suo sacramento perché era necessario intervenire proprio su questo no? quindi togliere la peccaminosità intrinseca dell'atto e quindi io faccio sempre le solite domande allora perché non voglio su queste cose dirle perché dopo ah guarda che ha detto allora domanda razionale no? se concepire un figlio all'interno di un matrimonio viene concepito un figlio all'interno di un atto lecito ok? quindi non peccaminoso siamo tutti d'accordo spero no? almeno dentro la vede divina cattolica è la stessa cosa concepirlo dentro il matrimonio oppure concepire un figlio all'interno di un atto intrinsecamente peccaminoso cioè fuori dal matrimonio la risposta è vi prego di darvela da sola da soli ragionando però è ragionando ciononostante Sant'Agostino che è la parola intelligente dice sì però il frutto nasce marcio lo stesso in che senso attenzione anche qui nel senso che il bambino nasce col tocchiato originale e il peccato originale dipende si trasmette proprio nell'atto in quell'atto lì nel peccato che mi ha concepito mia madre quindi i padri ragionavano senza senza timore cioè i ragionamenti si fanno tu apperviare delle conclusioni praticamente certe sulla base di dati certi poi andare oltre e infatti quando si dice ma in che cosa è consistito esattamente il peccato originale lì per forza uno va a ipotesi e uno rimane con un'ipotesi d'accordo cioè è stato proprio questo o questo è una conseguenza di qualche altro peccato che è stato commesso non si sa bene come su questo è difficile raggiungere ad una come dire ad una certezza fondata su ragionamenti oggettivi e solidi però su alcuni punti non si discute cioè i punti che ho formulato adesso non sono discussione se qualcuno discute che la fornicazione è un peccato mortale e se qualcuno discute che l'atto compiuto dentro il matrimonio è lecito sta fuori dalla chiesa cioè se uno dice che non pecca chi fornica e pecca anche chi sta dentro il matrimonio come dicevano alcuni eretici che si peccava anche nel matrimonio è fuori dalla chiesa fuori è completamente fuori allora Gesù spiega vedo la tua inespresso obiezione dice l'amore dell'uomo e specie della donna alla prova ha indicazione di comando nella parola di Dio ad Adamo ed Eva dopo averli benedetti vedendo di aver fatto cosa buona in un lontano sesto giorno il primo sesto giorno del creato e disse loro crescete e moltiplicatevi e riempite la terra Gesù aggiunge vedo la tua inespresso obiezione obiezione succede e moltiplicatevi però questa era l'obiezione inespressa o Gesù risponde riprendo posto che nel creato avanti la colpa tutto era regolato e basato sull'amore attenzione questo moltiplicarsi dei figli sarebbe stato amore santo puro potente perfetto se vogliamo far riferimento a un'altra liberazione privata di un certo calibro cioè la mistica città di Dio di Maria Valtorta sapete cosa c'è scritto nella mistica città di Dio di Maria Valtorta allora Gesù è stato concepito per opera dello Spirito Santo quindi per la concezione del verbo è intervenuto lo Spirito Santo in persona quindi per farvi capire i gameti di San Giuseppe non c'entrano niente né nella maniera come viene fatto oggi che stiamo soltanto pensarlo ma nemmeno riaprendo una parentesi ora era proprio la meditazione di sabato scorso chi quale se la può andare a vedere quando Maria d'Agreda descrive il concepimento di Maria era la meditazione di due sabati fa non di sabato scorso dice che la Madonna è stata concepita attenzione naturalmente quindi è figlia di Gioacchino e di Anna ma senza concupiscenza non spiega neanche lì come è stato e non lo spiega neanche qui Gesù non spiega come questo era possibile ma in qualche modo era possibile c'è una consonanza assoluta che cos'era? tutto era regolato e basato sull'amore questo moltiplicarsi dei figli sarebbe stato amore santo pure e perfetto attenzione prosegue più sotto l'amore quale ora è il generatore attuale di figli allora non era quindi qui Gesù sta confermando la dottrina patristica cioè che la condizione dell'uomo voluta da Dio pensata da Dio e anche del matrimonio secondo il diritto naturale era verginale la verginità si possono amare due uomini un uomo e una donna rimanendo vergini ci azzardi qualcuno a dire di no così vorrà dire che San Giuseppe e la Madonna non si sono amati forse qualcuno pensa che San Giuseppe e la Madonna non si sono amati non solo che si sono amati ma si sono amati più di qualunque altro sposo e sposa che fu è e sarà qualcuno pensa che Sant'Enrico e Santa Cunegonda imperatore che hanno vissuto il matrimonio bianco non si sono amati matrimonio è bianco sapete che si possono celebrare i matrimoni bianchi non è mica un peccato fare un matrimonio bianco mentre è un peccato unirsi fuori del matrimonio non è un peccato non unirsi nel matrimonio non lo è tant'è vero che i codici di comune accordo attenzione possono scegliere per un periodo di tempo tipo facciamo penitenza in quaresima siamo d'accordo tutte e due tutte e due devono essere d'accordo attenzione se siamo d'accordo tutti e due offriamo durante la quaresima non ci uniamo che peccano per caso se fosse un dovere peccherebbero è un dovere reciproco se uno dei conugi ne fa richiesta non ci si può rifiutare del matrimonio se ne fa richiesta nel debito modo ma non è un peccato astenersi di comune accordo non è nemmeno un peccato se come alcuni conugi fanno e io li conosco terminata l'età feconda bene terminata l'età feconda chiusa chiusa la trasmissione d'accordo tutti e due si guida la trasmissione peccano no è lecito avere rapporti anche dopo l'età feconda si è lecito non è peccato ma è cosa migliore a non averli certamente si certamente si bisogna sempre distinguere d'è lecito e il migliore e perché? per questo motivo perché questo amore imita in maniera certamente come possiamo adesso quello che sarebbe dovuto essere un caso analogo diverso ma analogo in senso molto molto estensivo penso che sappiate tutti quanti che nel corso della storia della chiesa ci sono state chiamiamole vogliamo chiamarle amicizie perché adesso purtroppo non si può più usare il termine amore perché diventa ambiguo vedete che croce che abbiamo San Francesco e Santa Chiara li conosciamo tutti questi li conosciamo tutti San Giovanni della Croce e Santa Teresa d'Avia li conosciamo tutti San Francesco di Salle e Santa Giovanna di Chantal li conosciamo tutti padre Pio e Cleonice Morcaldi li conosciamo tutti ma ce ne stanno altri ancora quindi ci sono stati sia proprio matrimoni vissuti nella verginità e sia persone vergini e caste che hanno avuto una chiamiamola amicizia che però non è come dire un'amicizia una semplice amicizia ma è un'amicizia chiamiamola intensa un'amicizia che ha sfociato nell'amore ma purtroppo non possiamo dire amore perché appena uno dice amore subito oggi va subito e pensa male subito immediatamente perché siamo contaminati siamo non abbiamo la non abbiamo la percezione ordinariamente di questo di questa dimensione però Gesù dice l'amore quale ora è allora il generatore dei figli quindi allora non era e la prova di questo lo sappiamo è il discorso di Gesù e Saducei i figli di questo mondo prendono moglie e perdono marito ma figli della risurrezione no e c'è un altro ciclo di catechesi sempre per chi ci crede per me ha degli spunti interessantissimi il ciclo di catechesi sul tenere amata dove si spiega che nel paradiso tra la gloria accidentale ci saranno tutti i tipi di felicità di beni di piaceri possibili immaginabili tranne uno che paradossalmente fino a quando siamo nella vita terrena è considerato il top no il piacere più intenso è quello a cui tutti appetiscono Gesù spiega che quella roba lì non è amore quella è fame perché le tre S sesso, soldi e successi non sono amori sono fami tossiche prosegue la malizia non era e con essa non era l'esecrata fame del senso l'amore virginale non conosce la fame del senso no e anche se sente gli stimoli San Francesco si è rotolato due volte una volta in mezzo all'espina una volta in mezzo alla neve pure San Paolo dice nelle sue lettere che era stata messa la spina nella carne perché sti pori maschietti possono averci la croce che gli fa venire soltanto che il volto a stomaco pensare a certe cose eppure se la ritrovano come dire impazzita senza poterla controllare nel proprio corpo questo può succedere ai maschietti purtroppo che maschietto lo sa che femminuccia forse non lo sa ma che maschietto lo sa e ti ha rotolato dentro le spine delle volte perché 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 non passa o in mezzo alla neve eppure quindi questo dimostra quello un essere umano per quanto santo ferito dal peccato originale ha vissuto un amore santo con Santa Chiara e di certo non ha mai consentito a robe di questo genere mai l'uomo amava la donna e la donna l'uomo naturalmente ma non naturalmente spiega subito come lo intendiamo ora o meglio come bellissimo come voi lo intendete parla degli uomini figli di Adamo ma secondo natura di figli di Dio cioè soprannaturalmente il senso ci togli una S e ci metti la N il senso è degradazione della nostra nobiltà umana altro che cioè uno dei segni dei tempi in cui stiamo adesso degli ultimi tempi degli ultimi tempi è proprio questo è la sessolatria dilagante in tutte le forme possibili immaginabili perché il mondo è sempre stato non vorrei dire un'espressione come dire la dimora di una mandria di animali appartenenti alla specie suina d'accordo ma il tasso che si è raggiunto adesso ma anche cioè il dilagare vi dico io nella mia cultura ho cercato di ampliare gli orizzonti ma soprattutto ho questo ho questo ho questo pallino che mi fa appiccicare l'attributo di essere come dire esponente di una chiesa di altri tempi io vado a leggere ogni tanto perché me le regalano pure le cose di altri tempi tipo i trattati morali di Sant'Alfonso oppure i manuali di i manuali di morale sessuale del 1700 dei confessori del 1700 e del 1800 se qualcuno si legge questa roba oggi se qualcuno si legge questa roba oggi io non ci faccio ci diricare che è su questa roba qui perché se no mi arrestano e gli prendo un infarto istantaneo istantaneo cioè la marea di peccati mortali che si fanno tutti i giorni televisione spot pubblicitari cioè noi adesso ci siamo abituati ma neanche ci pensavano in certi tempi capite dolci i primi giorni d'amore fra i due che erano fratelli perché nati da un padre uno eppure erano sposi ma nell'amarsi attenzione si guardavano con gli innocenti occhi di due gemelli nella cuna ecco perché dopo si sono vestiti due bambini non bisogna mandare i bambini nudi mai e per nessun motivo ma due bambini che vedono la loro nudità non gli farei caldo né freddo perché non c'è ancora svegliata la malizia quando è che si sveglia la malizia? quando è che si sveglia la malizia? a parte i criminali delinquenti che grazie a tutto quello che mettono in giro la fanno risvegliare prima ancora c'era una volta l'età dell'innocenza purtroppo adesso per molti ragazzini è stata rubata anche questa cosa a volte con la connivenza complice di genitori incapaci di educare i loro figli perché dovrebbero preservarli i genitori i figli almeno loro da sto monnezzaio non possono parare tutti quanti i colpi che vengono da tutto quanto il mondo ma almeno loro sì però non fargli da vedere dentro casa certe cose non violare la loro innocenza prima del tempo ma la malizia si sveglia si sveglia quando? quando si diventa maschietti è femminucce è lì che si sveglia la malizia prima no quindi questo è il cuore adesso mi devo mi devo fermare è un peccato perché qui però i sei generi d'amori ricordiamoli gli amori santi l'amore di Dio l'amore di padre e di madre l'amore sponsale allo sposo e alla sposa l'amore del prossimo e quindi evidentemente qui c'è anche l'amicizia l'amore alla scienza e l'amore al lavoro anche l'amore alla scienza l'amore alla scienza non la scienza come lo intendiamo oggi la scienza con l'h finale per carità la scienza è il conoscere è il formarsi è l'informarsi è il formare anche la nostra fede perché anche la nostra fede deve essere avvicchita di scienza non deve essere una cosa vaga o emotiva o sentimentale o informe oppoggiata sul personaggio X sul prete Y sul veggente Z sull'apparizione gamma no no la fede si fonda su altro la scienza e poi il lavoro anche l'amore al lavoro è il sesto non è ah io lavoro ah lavoro talmente sono un gran lavoratore lavoro pure la domenica bravo scemo si 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 dovrebbe scemo si può dire scemo nel senso di stolto va bene amici è meglio che ci fermiamo perché siamo andati oltre i tempi consentiti di una pur lunga catechesi però penso che erano argomenti che era opportuno continuare ad approfondire Dio i benedica e la santa vergine sempre vi protegga una santa nota che è seguita la diretta laudentur jesus et maria grazie a tutti i benedica grazie a tutti i benedica